Questo nuovo spazio di innovation non avrebbe dovuto iniziare così, non parlando della morte di Steve Jobs. Ma del resto questo è uno spazio informativo e gli eventi non li possiamo prevedere a dispetto di qualunque tecnologia. Adesso il rumore di fondo si è placato. Steve Jobs è morto da più di tre settimane, tutto su di lui è stato detto e scritto e possiamo cercare di andare oltre la celebrazione. Steve Jobs non era un artista, non lascia detto di sé melodie, quadri o romanzi. Era un capitalista illuminato da formidabili idee di marketing, un uomo d'affari più avanti degli altri. Quello che ci lascia in eredità sono oggetti, prodotti che per molti sono motivo di culto, per altri esageratamente costosi. Ma comunque il suo successo ci dice qualcosa anche della nostra società. Ci dice che la nostra società è una società per la quale contano le cose e le cose che ci lascia in eredità Steve Jobs sono effettivamente notevoli. Allora in questa prima puntata di News Machine possiamo tentare di fare un esercizio, cercare di immaginare come sarebbe il mondo se tutte le creazioni di Steve Jobs non ci fossero mai state. Nel 1976 non nasce la Apple, due anni dopo non esiste quindi il computer Apple ISA, che sarebbe stato il primo ad usare le icone. Queste nascono in casa Xerox con il modello alto che rimane però solo un esperimento fino al 90, quando le icone vengono finalmente lanciate da Linus Torvald per il suo sistema Linux. Il famoso lancio del Macintosh dell'84 non avviene mai e il mouse inventato da Doug Engelbart nel 68 rimane nel cassetto per 30 anni, fino a quando scade il brevetto lo scopre Larry Page, il fondatore di Google. Il 96 i computer vedono ancora i floppy disk invece dei cd, perché Jobs non ha mai costruito il computer Next. I dischetti vanno in pensione solo nel 2000, quando vengono finalmente sostituiti delle chiavette USB. Fino a quell'anno i computer rimangono oggetti in plastica industriale, grigia e beige. Il coloratissimo iMac nel 98 non vede mai la luce e alcuni giovani designer coreani cominciano a fare pc colorati solo nel 2005. Ehiha! È un miracolo! E tu volevi che restassi... Toy Story e la Pixar non sono mai nati e quindi il 95 non vede l'uscita di nessun film di animazione digitale. Il primo film al computer è Hans e la formica, che viene fatto da Steven Spielberg nel 2003 con 5 anni di ritardo. Il 2001 viene ricordato come l'anno del disastro, ma non solo per le torri gemelle, anche per la musica. iPod e iTunes non esistono né oggi né mai e quindi i pirati musicali imperversano. Viene creata per riportare l'ordine la polizia del copyright, che ha diritto di rompere in ogni casa per cercare le ricevute di pagamento dei brani contenuti in ogni mp3. L'iPhone nel 2007 non è mai stato inventato, i telefoni a tastiera imperversano, i touch screen sono solo delle curiosità da laboratorio. Google non realizza nessun sistema operativo Android, perciò il leader assoluto di mercato è ancora finlandese. Al giorno d'oggi i netbook hanno sbaragliato la concorrenza all'iPad nel 2010, non è mai uscito e quindi nessuno crede che il tablet abbia un futuro dopo la disastrosa esperienza di Microsoft del 2000. Così sarebbe forse il mondo senza che la vita di Steve Jobs fosse intervenuta a mutarlo. Che ne pensate? Provate a dire la vostra sulla nostra pagina Facebook, Innovation La7, per ritrovare invece i servizi e le puntate c'è sempre il sito di Innovation. E adesso 5 cose che forse non sapete di Steve Jobs. Al numero 5 il fidanzamento con John Bytes, Steve e la quanta autrice sono stati insieme quando avevano circa 20 anni. Quarta posizione per le azioni Disney, Steve era praticamente il padrone della Walt Disney, con oltre il 7% della società il suo peso nella casa di Topolino era di 48 milioni di dollari. Al terzo posto tra le cose curiose su Steve Jobs il suo stipendio come amministratore delegato della Apple, appunto un dollaro. Seconda piazza per il maglioncino nero di Steve, bello, semplice, ma caro, cashmere e seta, 300 dollari. Al primo posto Steve, una peste da piccolo, era un vero ciclone a scuola, portava serpenti vivi e faceva esplodere miccette ovunque. E da oggi in poi concluderò con una frase che proprio oggi non può che essere questa. Il tempo che avete è limitato, non sprecatelo vivendo una vita pensata da altri, ovviamente è sua. Innovation continua, tra poco.